Ryanair ha rischiato grosso. L'ufficiale giudiziario del Tribunale di Bari stava infatti per pignorare un aereo alla compagnia low cost presso l'aeroporto Carol Wetigua. Per disservizi che si sono verificati con la compagnia, ritardi, sbarimento di bagagli, sono stati ripetutamente condannati dal giudice per il risarcimento dovuto. Che però non è mai arrivato. Se ne sono altamente infischiati per cui siamo stati costretti all'azione risarcitoria con l'esecuzione coattiva. L'avvocato Michele Tarquinio, su mandato di Consum, aveva chiesto l'intervento dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Bari dopo diversi solleciti ignorati dalla compagnia low cost, condannata ad una decina di compensazioni pecuniarie. A poche ore dall'esecuzione coattiva che l'ufficiale giudiziario doveva eseguire all'aeroporto di Palese ci hanno contattato telefonicamente pregandoci urgentemente e assicurandoci in mille modi che il risarcimento totale doveva avvenire e che era stato già predisposto il tutto. Ryan era effettivamente provveduto ai pagamenti nelle ultime ore, dunque il pignoramento è stato definitivamente sospeso. A di Consum segnala però che ci sono almeno un altro centinaio di azioni di recupero in atto contro tutte le compagnie aeree, di cui almeno il 40% contro il Ryanair. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, l'associazione auspica di non dover ricorrere nuovamente all'ufficiale giudiziario prima di sbloccare i pagamenti.